Hai visto registrare? Sì Bravo Perché? Sì Perché non lo registro? Sei veramente bravo Ragazzi, siccome abbiamo Franz che è un po' stupidotto E ci ha lasciato... Abbassiamo Abbassacchio, cioè Destiny Calls Ma che... Ma cos'è un messaggio pubblicitario? Che pubblicità incredibile Quindi, siccome siamo rimasti solamente in due a Roma Abbiamo ben pensato di registrare come gameplay Una partita di Ispro Evolution Sì, un gioco che dà messaggi vani Sembra Vanna Marchi che ti istiga a fare cose The crowd are waiting Ma cosa? Adesso giocherai a calcio D'accordo? D'accordo? Dai con bella scelta di colori Complimenti Veramente Le gambe di cera Ma saltiamo questa volosa presentazione E allora facciamo match mode Vai, exibisco Tu sei bravo a Ispro Io ero costissimo a Ispro Compa, io ero il più forte del mondo Vabbè, allora mi batterai Sono sicuro Tra l'altro segniamo punizioni da 46 metri Con Dino Baggio Te dico solo questo Con Dino Baggio Che assomiglia a una cifra a Piff Se ci fai un caso No, no, orsi è uguale È il cugino di Piff Credo quelli lunghi Esatto No, Dino Baggio al Parma C'ha avuto un periodo In cui era Bello Era giallo Che squadra vuoi? Allora, premesso che io Io vorrei giocare come la Groenlandia Non so te Nella Croazia c'era Milan Rafaic Ma dove cazzo è forte la Croazia rispetto all'Italia? Non c'era Dario Schuker? Sì, c'era Davo Schuker Io mi sape Dario Schuker C'era Davo Schuker C'era Mario Stanic Mario Stanic, mamma mia Io mi sapevo che mi prendo l'Olanda Giovo Zenden e Mark Overmars Che erano i laterali del Barcellona Sì, tutto giusto Dieci minuti Mettiamo Hard Non cambia cazzo Hard tra noi Sì, esatto Va a finire il sesso Esatto Hard Significa che giochiamo entrambi con un'erezione Incredibile Hard on E quindi possiamo andare Stadio Giochiamo lo stadio di Udisk Volante Il famoso stadio di Udisk Volante Vabbè Per chi non lo sapesse Per chi è più giovanotto Insomma, non se lo ricorda Perché magari non era neanche nato Quando uscì questo gioco Non avevano Vedi, post bus Non avevano Non avevano i diritti Oh, giochiamo Colossia di Lombardia Non avevano i diritti Per gli stati Questo è palesemente San Siro In Meazza E Non avevano i diritti E quindi usavano questi nomi fittizi Non avevano i diritti di niente Non avevano i diritti neanche per un cd decente Non mi ricordo se non c'è la Germania o la Spagna Non mi ricordo che cazzo di nazionale non c'è Addirittura Non mi ricordo l'altro Avrebbero potuto chiamare Alemagna Come gli autogrill No Nel Tu hai preso l'Olanda? Si Allora si chiameranno tutti Orange qualcosa Cioè non hanno proprio Non ci sono neanche inventati nomi Si chiamano Orange Sono quasi sicuro Vogliamo vedere No Invece no I nomi sono quasi veri Che cazzo dici? Albertelli Firuzi Canavero Io c'ho Van Dorsar Che era Van Dorsar Stam Il gemello De Boer Il gemello Filippo Koku Reisiger Mamma mia raga Che ricordi? Clarence Seedorf Overmars L'altro De Boer Edgar Davids Dennis Bergkamp Cioè comunque questa squadra era mostruosa Era fortissima Troppo forte Tra l'altro vedi i numeri erano a 8, 7, 6, 8 Nooo Chi è Zaul Stamale Enrico Chi è Zaul Però c'è Tatti Tatti e Roberto Blagio Vedi c'era pure Derek Winter Che era poverino L'unico Aaron Winter magari Derek Winter Non so perché stai storpiando tutti i nomi Aaron Winter Per chi non lo sapesse era nero e ebreo Si nero e quei baffi Nero e quei baffi e ebreo Era strano Era quantomeno anomalo Van Vassen Von Vassen Von Vassen Von Vassen Van 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 Vassen Vabbè dai insieme Anche Van Vassen 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 Roberto Blagio Non so se mettere Del Perio Perché Del Perio Sì Però a parte c'è Di Francesco Oddio no no Io devo cambiare Stam Una volta è forte Dino Blagio Ma come faccio vedere la posizione? Su Premiere Ecco O H C B C B O I R O Madonna Uno peggio Io metterei Winston Bogard Ma stai scherzando certo Vabbè l'Arti sono tutti abbastanza forti Sì Torf Stappata A me ti fa dire un missio da 50 metri Sai che volevo cambiare qualcosa Forse Albert Tenni Di Biagio no Per favore Ma di Francesco Ma quando c'è andato un nazionale? Quasi quasi gioco con Cante Antonio Cante Antonio Cante Ancora non aveva i capelli all'epoca I Zoghi I Zoghi Buffonne Mazzola Buffonne ancora era vivo Ma quanti anni ha Buffonne? 92 Già era vivo volevo dire Sì Sai così così voglio schierare Tatti Tatti è forte ma Voglio schierare Sì però è un trequartista a questo gioco Invece lo metto In porta Ma lo metto playmaker Dai secondo me può funzionare Piruzzi Tanto a questo gioco funzionava Roberto Carlos in attacco Esatto Sicuramente se non può funzionare Totti al centrocampo Se chi è che chi è che non metteva roba Che ho già i Totmo fans Fans Che belle le bandierine Guarda come i tifosi si amano E sono mischiati fra di loro Il commentatore italiano era Massimo Tecca Massimo Tecca Sì Che poi è diventato famoso Grazie La tecnologia di Oddio che telecarica Camera terribile Telecarica Ok Mettiamo No aspetta Siamo per andare Mi piacerebbe mettere start Ma sei tu No Metti start Ah no adesso Camera type Normal type Wide Ok Wide Wide È l'ideale Ci siamo Vai Ma perché tu sei d'Italia allora No io sono d'Italia No no io sono l'Ulanzi Madonna che controlli Improbabili Madonna santa Oh ce l'hai fatta Deber Deber Cross in mezzo Cross in bocca Cross in bocca la romana Buono Cross in bocca la romana Siamo buonissimi Manucci è un fan di cross in bocca la romana Hey Dai Allora L'ho visto L'ho visto Mamma mia Deber L'ho visto Il cemello Deber Moltani Vandersore Effettivamente devo riabituarmi alle dinamiche di un gioco Ma che non giochi da 24 Dinamico No Taccetui Un po' questo gioco L'ho giocato veramente troppo Mamma mia Io mi ricordo quando stavo Io andavo Non in campo scuola Andavo l'estate In dei posti Tipo in Abruzzo Dei posti E c'era qualcuno che A fare sì i campi gestivi No Non so se Sì sì Se voi bambini poveri lo facevate Però insomma Lo facevo questa cosa E c'era qualcuno Fuori gioco Fuori gioco? Sì No Avevo fatto l'azione più bella dell'universo Ma non è vero Fuori gioco di un metro No non è vero Stai dicendo Fandoni Ma non è vero Forse non esisteva fuori gioco in quegli anni Il calcio Insomma andavo a questo posto E c'era un ragazzo Di 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 casal bruciato Mi pare Che come te Amava il Vito Se non lo stonzo Immagino Che portava la Playstation 1 E Ace Pro E lui Faceva sempre gol Con Ryan Geeks In sua punizione E lo odiavo Cioè i partiti finirono 7 a 0 Perché 7 punizioni di Ryan Geeks Lui segnava sempre Dennis Bergkamp Io comunque non c'ho la tecnica Come si fanno le finte? Si fanno le finte? Sì Sì? In realtà c'è una finta C'è il quadrato X La finta di tiro Dai E poi c'è Con calma Permendo tante volte L1 Fai il doppio passo più inutile della storia Se vuoi provare Oh Ma donna Sempre lì Sempre l'ultimo seconda Ma grande anticipo Di Canavero 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 Oh Dennis Ma non fa le scelte Ah si deve fare Ma porca puttana Sono un po' rallentati Attenzione Che filtrante filtrantino No E Vieri La mette dentro Ma dai Ma non è mai vero Ma che anno era? Era il 2000 Il 2000 99 forse Forse 99 Forse non tutti voi ricordano il mondiale del 2002 Vogliamo parlarne? Non ti ricordi cosa riuscì a sbagliare Christian Vieri? Qualca mignotta Contro la maledetta Corea del Sud A un centimetro dalla porta Nolli Si ma c'era uno che scatta Tu gli ha Mandi a colare il centro Sembra pretenzioso Chi c'è si sta a fare COGUn difesa Così per il tuo Coutinho Era una Coutinho Era un difensore Ma assolutamente mai Era un centrocampista Ma dipende Ah no Ahiaiaiaiaiaiaiaiaiaiai Attenzione che qui c'è del perio Del perio c'è la botta Del perio Guarda la con l'amiche Si fa pubblicità occulta a se stessa Mettendo HTTP C'è occupato 6 giga mers di memoria Per scrivere HTTP Ha ancora una fischiata Mamma mia che cacata Non mi ricordo più come si tirano le punizioni Il mio amico Dario Dario Schuker Il mio amico Davor Schuker Vai Vai Patrick Può testimoniare Madonna Che segnavo punizioni veramente da 46 metri Tra l'altro C'erano partite incredibili tra me e Dario Sempre Dario Schuker Dario il grande Ed erano partite tra Dribbloman che ero io E Triangleman che era lui Lo faceva solo triangoli e andava a casa E tu dribblavi cosa? Che non c'erano i dribbling Ma stai scherzando? Guarda Aspetta, in realtà devo prendere del perio per dribbare Ma lei che cambio di campo? Vaffanculo che cambio di campo? Ma no, ma dai Ma che passaggio filtrante di merda è? Ma dai, ma no Lui verte Madonna se ti piote Spaccavo la rotula Olè Olè Wow Lui verte era veramente forte Era tipo Quando ero bambino era il mio giocatore preferito C'era anche un culo decisamente enorme Io sto facendo una serie di minchiate Madonna Ah è mancino Davids, è vero Era mancino Davids? Era mancino? Ma qualcuno ha mai scoperto cosa avesse Davids agli occhi? Ha un glaucoma Ha un glaucoma Cioè è una cosa brutta Sì E' mai guarito? Eh sì Guardi però poi siccome la Nike gli vede un sacco di soldi Per gli occhiali Continua a tenerli Sì esatto Poi l'altro pensa che è scomodità giocare con gli occhiali Guardi nel basket lo fai Ti ricordi? Era scrente Come no? Sì vabbè Però non credo che sia proprio comodissimo Ma che te lo dici? Ma non lo so Il buonsenso E tu sei una persona di buonsenso Anche di buonsanglio Buonsanglio per me Io vorrei Ti avvento perfetto Qualcosa Ma noti la totale assenza di movimento dei compagni di squadra? Io aspetto che qualcuno si riveda Devo dire noi pensiamo che questo gioco fosse la rivoluzione copernicana del calcio Beh voglio dire All'epoca cazzo era fantastico Eh ma il competitor era FIFA Che era il gioco più finto del mondo Prendevi un giocatore e andavi No no questo era veramente avantissimo Guarda di Francesco Soprattutto che Edgar Davids non raggiunge di Francesco sulla corsa Cioè Ma de che sta Oh Fa me che finta netta E' partita una rotola eh Ma non lo sai Ehi Oh Oh Ma che fate? Siete pazzi? E passa E passa Mamma mia ragazzi Che disimpegno Esce bene il calcio totale dell'Olanda Esce Il calcio totale dell'Olanda del 99 Ma Eh no eh no Esce il portiere Mi ha Maffanculo Ho seccato Guarda il famoso Vieri Ma i capelli Madonna Sembra quello del slam dunk lui Vieri detto cinghialone Vieri Guarda come lo secca con freddezza Non ha mai avuto questa freddezza Ma ha mai fatto un palometto in vita scuola Faceva i gol di Stinco Vieri Ci fu la stagione di Vieri all'Inter Varie stagioni ha fatto Sì L'ultima stagione di Vieri all'Inter In cui vinse il titolo di capo cannoniale Sì Se ne aveva Quel gol a Sereni Del Brescia Che voleva tirare una cannonata incredibile Sereni volò Pensando che avrebbe tirato una cannonata Invece la colpi tipo di ginocchio Stinco E la palla si inzaccò A un metro all'ora Ma io ce l'ho a Zenden Non ci sta a Zenden Che cazzo di passarci fai Ma qua non fosse uscito la grande Zenden Oh Non sarebbe veramente fallo amico Assolutamente no Ma dai Vabbè niente È un'umiliazione su tutti i fronti Cioè non ho fatto un tiro Porta Dai C'è una reattività di uno Cazzo Fai i premi X Dopo 15 minuti Ti risponde Dai però Panocci Da Panocci Potrebbe essere un bel nome Che una panetteria Da Panocci Dal 1914 Riempiamo le vostre bocche Riempiamo le vostre bocche Non è il slogan più bello del mondo La Playstation aveva Una CPU di 33 MHz Davvero? Sì In segnale che il nostro computer Ne ha una da 3,7 GHz Potete renderti conto Dell'avanzo tecnologico 1,7 GHz o non è vero? 3,7 Ah scusi Eh sì Ah che dai Eh vabbè Mamma mia De Burr Per chi non lo sa Che essere Olanda È la nazione più sfigata Nella storia di mondiali di calcio Sempre arrivata lì lì Nel 74 Arriva in finale E perse Nel 78 Arriva in finale E perse Nel 2010 Arriva in finale E senza che diciamo Cosa accadde Perse E poi è uscita contro Chi è uscita? Trova Germania? Oh Questo è uscita Sai che non mi ricordo affatto Ma che la finale Con chi è stata Germania? La finale Argentina È stata Germania Sì infatti L'Olanda è uscita con l'Argentina Dai Ma vergognoso Cioè Questo per dimostrare Che i rigori Sono il male del calcio Perché non vince la squadra più forte Vince la squadra con più Con più numeri ai rigori Sai quale sarebbe Un ottimo modo Per decidere Quale squadra passa? La monetina La loro trussa Avrei detto Ma qui vincerebbe sicuramente Cioè Montero avrebbe vinto La roulette russia Poi avrebbe vinto La roulette uruguayana Ok Beccato per Montero Il Ruguay non era forte Quando giocava a pallone Ma Montero sì Montero sì però Era forte nel senso che Alzava un sacco di panca piana Ma anche un sacco di rotule però Sì Allora da me non riesco a fare niente E io faccio un sentimento Comunque c'hava Anzi stavano i tiro Motevolissimo Cioè il senso del tiro Era veramente fatto bene Assolutamente Ma questo gioco era meraviglioso Sentimenti il potere nei piedi Sentimenti terzo Tu vedi hai fatto la finta Ti avevo triplato tutti Se tu non mi avessi preso una rotula Oh e dai Non avrei avuto a fare il gol più bello della storia Ed ma no però Ma santo Dio Ma una partita di terza categoria Vai Cazzo Ma ritardati Ma posso farmi prendere a Winston Bogard Porca puttana Tipo uno all'ora di velocità Non è Delperio Delpiero Seccato Queste punizioni dal limite dell'aria Sono estremamente difficili da battere Ma con delperio Ma voi a World Cup 98 Se avete mai riusciti a fare un tiro che non fosse ad effetto Era impossibile Cioè un tiro dritto Era impossibile Se poteva fare Si telecomandava da sola Ce l'hai eh ce l'hai Sto ricalibrando Sei molto bravo Grazie anche tu sei bello Io sono molto stupido anche però Anche io pensavo che il radar Pensavo che il puntino blu sul radar fosse il mio giocatore E dai I commentatori inglesi sono di una verve Fanno parte dei verve Dai Contropiede Velocità E dai Ma va che cazzo E colpo di tacco fai Ma che fai Ma guarda Moldani Che recupera E se ne va Se ne va Moldani Vaffanculo Oh Ma senza da farti male Invece No La pressurata Perfetta Esatto Moldani Niente Grande che spazzamento Ottimo intervento Ottimo intervento Ottima difesa Vai Dennis Eh c'ho paura a fai Terribile Mi so capace Grande Grande Vai Mark Va Sul possesso palla ti ho annientato Ma dove sono una pippa Ma come prima eri fortissimo No era fortissimo nel 2000 Nel 2000 Il motore Del 2000 Quanto stava avanti Lucio Dalla Poco effettivamente Ma che bu Cosa Buche Bucheache Guarda come ti lancio panocci Bucheiche Oh Prendila 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 Moldani Prendila Dai Prendila Moldani Ho fatto una finta inesistente Vabbè poi Se cerco di farla prendere Del Piero Ma comunque Quanto era bella La difesa della Nazione Italiana Oh Ma che conto vede Bellissimo Ma quale fuori gioco E devo fare gole E devi fare gole E devi fare gole E chi è chi Io non ho fatto gol Quanto era bella La difesa della Nazione Italiana No no era bella Proprio belli Proprio umanamente belli Eh sì Cioè pensa Maldini Bell'uomo Maldini è un bell'uomo Osta curta Bell'uomo Osta curta Un bell'uomo Sì forse Non lo so Nesta Nesta è un bell'uomo Cannaro è un bell'uomo Bell'uomo Oggi si è un cinghiale Sì oggi c'eramo dei cessi C'eramo tre ergastolani E quattordici rapitori seriali E paletta Che fa Categoria a parte Paletta secondo me non è un umano Paletta è ucciso dal cotto lengo No Praticamente Ma poi ce l'aveva i capelli Sai Non è nato così Davvero? Sì sì Poi ha deciso di prendersi uno con uno E levarli Sai che paletta È nato per Per sbaglio Probabilmente No paletta La categoria dei paletta È sconfitta È ovo pipara Penso da un uovo è uscito paletta Con sertente È tutto sport Ehi Sì da qui Tutto questo Che ne pensi È bello Questo gioco è bellissimo Cioè sto gioco è divertente anche adesso Alle 7 Alle 4.40 È divertentissimo Non so che ho detto 7 Ma Sai comunque Se potete notare quanti tiri ho fatto io Sono contati come shots Ma non importa Sono shots Nell'intervallo Sì Famose tre shottini Maldoni Maldoni Il famoso barista Infatti aveva perso un bar ora Ecco